Un incontro per tracciare lo scenario attuale del tessuto economico e produttivo abruzzese, mettere a fuoco gli strumenti per consentire alle imprese regionali di superare questa fase di nuova incertezza legata agli effetti del conflitto russo-ucraino senza che perdano slancio e investimenti strategici nel medio e lungo periodo. Tutto ciò al centro dell'incontro sul tema Costruire il futuro, strategie e opportunità per l'economia abruzzese, organizzato da Intesa San Paolo, la cui direzione Studi e Ricerche ha presentato una profondita disamina degli scenari e dei trend economici regionali, con particolare attenzione ai distretti industriali dell'Abruzzo e con un focus particolare su meccanica e automotive. Partiamo da qui perché sentiamo una regione che ha bisogno soprattutto di continuare a lavorare sulla competitività e soprattutto sull'ammodernamento. Oggi discuteremo di digitalizzazione e devo dire l'Abruzzo ha passi in avanti a dover fare, soprattutto figlio magari di ridotti investimenti effettuati nel passato in ottica di telecomunicazione. Oggi la digitalizzazione è importante, significa lavorare su nuovi mercati di sbocco, su mercati di approvvigionamento e mettere soprattutto in grande interazione clienti e fornitori. Secondo i dati illustrati nel corso dei lavori, i livelli di PIL dell'Abruzzo già prima della crisi pandemica erano ancora al di sotto rispetto a quelli delle crisi precedenti, mentre per i dati del 2021 si stimano a un recupero rispetto ai minimi della crisi pandemica con ritmi prossimi a quelli dell'Italia nel suo complesso. Ma il conflitto sta già determinando effetti negativi per le imprese. I costi energetici, i problemi legati all'impossibilità di gestirli e quindi abbiamo bisogno di questo tipo di provvedimenti affinché il sistema industriale possa rimettersi in pista e rigenerare margini, perché in questo momento i margini non esistono. Cominciano ad esserci problemi finanziari, c'è evidentemente un assorbimento di liquidità dovuto alla crescita dei prezzi e quindi all'impegno che le aziende stanno evidentemente mettendo nei magazzini e questo sta determinando un problema molto serio. Infine, ma non da ultimo, c'è un problema evidentemente di capitale umano e di innovazione. Oggi si parla di automotive, quindi l'Abruzzo è una regione fortemente concentrata sull'automotive e concentrata sulle esportazioni relativamente all'automotive. Evidentemente oggi perdiamo il 19% e questo è qualcosa che ci sta allarmando. Grazie. Grazie.